Alvia dal primo giugno anche i centri sociali e i circoli culturali e ricreativi. A deciderlo il presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, che ha firmato un decreto con il quale si è aggiunto un ulteriore tassello al panorama delle attività consentite nella fase 2. L'obiettivo è stato raggiunto grazie a un lavoro sinergico tra Regione e il Forum del Terzo Settore. Il protocollo che contiene le linee guida tiene conto del fatto che in questi luoghi vengono svolte diverse attività, spesso anche in contemporanea, e implicano l'incontro e la permanenza dei frequentatori per finalità aggregative. Come Forum del Terzo Settore Marche, assieme alla Regione, abbiamo fatto un percorso condiviso sulla base anche delle linee che aveva data la conferenza delle Regioni, venerdì 22 maggio. A quanto sappiamo noi dei nostri circoli sono questi i primi che si stanno muovendo perché le norme debbono essere rispettate nella loro interezza, quindi tutta la partita delle norme va rispettata perché il principio fondante è la tutela della salute dei nostri soci, dei nostri volontari, dei nostri dirigenti e di chi anche, voglio dire, per vari motivi viene a contatto con i circoli. Anche le ACLI per Tomassini devono dare un contributo alla collettività, ricostruendo le relazioni sociali perse in questi ultimi mesi. Il rapporto interpersonale, ha detto, è il principio fondante delle nostre organizzazioni associative. Oggi noi pensiamo di riprendere un processo anche di cura, di cura dal punto di vista delle relazioni e di cura dal punto di vista psicologico di persone che hanno vissuto anche lutti e quindi c'è anche l'esigenza dell'elaborazione dei lutti, per le quali l'attività di stare assieme ha anche questa finalità importante. E l'altra attività che noi abbiamo consigliato ai nostri circoli è quella di mettersi a disposizione delle loro comunità, delle loro associazioni di volontariato, delle loro carita sparocchiali, affinché il circolo diventi un soggetto attivo dell'aiuto a quelle famiglie, a quelle persone più in difficoltà che in questo momento hanno necessità di avere un accompagnamento, una relazione, diciamo, nello spirito della solidarietà. Su 48 circoli nel Pesarese ci spiega invece il presidente provinciale Acli Diamantini. Non tutti hanno riaperto. Alcuni infatti si stanno ancora organizzando per adeguarsi alle linee guida. Tra queste rientra la formazione del personale, la pulizia di locali e attrezzature, oltre alla mascherina obbligatoria per le attività sportive o motorie che non comportano un significativo impegno cardiorespiratorio, come il gioco delle bocce e il biliardo. Il più importante è sempre le solite che vengono dette, il distanziamento sociale e il fatto di non scambiarsi le cose tra i soci, quindi l'uso della mascherina, le classiche disinfestazioni prima, dopo, igienizzazione delle mani, via dicendo. Sono tutte prescrizioni che penso che col tempo andranno a calare, perché l'andamento è positivo, quindi andranno ad attenuarsi, ecco, diciamo, a migliorare quindi anche i rapporti sociali, perché noi siamo basati sui rapporti sociali. Quindi il distanziamento sociale è un po' contrario ai rapporti sociali.